Venerdì alle 11.30 è stato recuperato il corpo senza vita del cardiologo Leopoldo Celegonna, 72 anni medico in pensione di Castelfranco Veneto. Le sue ricerche erano in corso da domenica scorsa, quando si erano parse le sue tracce dopo che era uscito per un'escursione alla ricerca di funghi. Lo hanno individuato in un torrente nel territorio di Cortina. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in collaborazione col personale del soccorso alpino del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza. Ora è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.